Presidente Giangrande, una iniziativa questa Fish and Chips in cui il mondo commerciale sposa la cultura, sposa le tradizioni, i vari settori tarantini che svolgono un'azione coesa e sinergica. Sì, ma in effetti questo progetto è un progetto molto bello perché vede più attori partecipare a questa iniziativa dall'università al Martà alla regione, quindi più attori, il comune, voglio dire chiaramente ci sono percorsi che oggettivamente hanno coinvolto più persone. E' chiaro noi vogliamo riprendere la storia perché far vedere alle nuove generazioni da dove siamo partiti, siccome noi crediamo che la risorsa del mare, la midi di cultura siano delle risorse fondamentali, formate in un ragionamento di percorso, anche di formazione e di conoscenza alle nuove generazioni, io penso che sia un progetto molto bello e che Confuommercio da sempre, almeno sotto la mia presidenza, ha sempre martellato dicendo che questo territorio ha tantissime ricchezze e dobbiamo fare in modo di valorizzarle tutte. Valorizzarle tutte significa non ragionare solo di grande industria ma di turismo, di formazione per il turismo, itinerari, mare, midi di ricoltura, agroalimentare, credo che siano le risorse da cui secondo me ripartire e provare a fare uno sviluppo del territorio importante.